Il pericolo atroce della retorica 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 Oggi non dobbiamo tollerare il rischio Che nel nostro paese si insedi nuovamente Non dico un fascismo perché le cose non si ripetono mai storicamente allo stesso modo Ma un potere il quale rappresenta un cambiamento di regime Da quello democratico Che fu fondato dalla Costituzione della nostra Repubblica Ad un potere di carattere assoluto Come quello che purtroppo una parte degli italiani Oggi sono nell'idea di dovere condividere e di dovere instaurare Questo è il compito, questa è la linea Questa è la fedeltà alla propria storia Che l'ampi indica non soltanto a noi che ormai siamo alla fine del nostro percorso umano Ma soprattutto ai giovani nelle cui mani sta il presente e il futuro del nostro paese La fedeltà alla propria storia Che l'ampi indica non soltanto a noi che ormai siamo alla fine del nostro percorso umano Grazie a tutti.